Allora, andiamo? È arrivato, finalmente, il gioco di Renato Izzo. Se vuoi emozionarti e provare a doppiare insieme a noi, o giocare a fare il doppiatore, scarica Doppio Anch'io. Renato Izzo, un grande direttore di doppiaggio, ha creato questo gioco per farti vivere la gioia di recitare. Potrai ricreare l'atmosfera della sala di doppiaggio da solo o con i tuoi amici. Scene drammatiche, divertenti e grandi scene d'amore. Potrai doppiarle proprio tu. Potrai provare a incidere e riascoltare la tua voce. Potrai essere tanti personaggi, perfezionarti nel parlare, imparare la tecnica del doppiaggio. Sei pronto? Ricordati solo una cosa. Prima di cominciare a incidere, alzati e fai dieci salti. Devi sentire che ti batte il cuore. E poi, divertiti. Scarica Doppio Anch'io.